buongiorno 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 e buon giovedì 11 giugno buon giovedì 11 giugno andiamo all'11 giugno 1989 qua ci sono le fotografie le fotografie di un milan campione d'europa che vince anche a pisa 2 a 0 stava benissimo il milan allora vinse 2 a 0 a pisa vinse poi 5 a 1 contro l'ascolo in casa poi un'altra goleada a bologna e le illustreremo nelle prossime nei prossimi giorni facile vittoria contro il pisa che poi purtroppo retrocessi in serie b con la doppietta di marco van basten uno dei suoi rari gol su calcio di punizione ma prima aveva segnato con un tiro splendido in controbalzo e il milan cerca di raggiungere il napoli al secondo posto con l'inter che si sta avviando a vincere lo scudetto ma il milan a dimostrazione di stare benissimo dopo la vittoria con lo steaua poi vola perché la squadra sta veramente bene era veramente divertente vedere quel milan andiamo all'attualità il titolo è che cosa accade che cosa accadde ieri a milanello ieri a milanello c'è stata la visita di Ivan Gazzidis andiamo a raccontare allora Ivan Gazzidis aveva contattato la squadra per trovare un accordo riguardo agli stipendi quando la squadra non ha giocato cioè la metà di marzo tutto aprile e maggio la squadra si è allenata non ha giocato ma si è allenata ci sono state delle proposte da parte dei giocatori delle proposte da parte della squadra e la proposta da parte della società non si era trovato un accordo poi secondo le informazioni che ci arrivano da casa milan venerdì scorso la squadra ha fatto un'ulteriore proposta venerdì è andata sul tavolo poi della dirigenza a londra e ieri o l'altro ieri o anzi forse l'altro ieri o due giorni fa c'è stata la risposta positiva e la società ha accolto la proposta dei giocatori giocatori che quindi prenderanno interamente lo stipendio di marzo interamente lo stipendio di maggio e metà visto che non si è giocato lo stipendio lo stipendio di aprile Ivan Gazzidi si è andato oggi accompagnato da Ricky Massara a Milanello per comunicare questo ai giocatori giocatori l'hanno ovviamente presa bene questa decisione che va incontro ai loro desideri poi lì però si è presentato non dico una c'era tutta la squadra c'era l'allenatore però diciamo che si è presentato Zlatan Ibrahimovic era uno diciamo dei rappresentanti sembra che ci si fosse stato ma lì non è certo Alessio Romagnoli che è buona capitano buona avventura perfino qualcuno dice il portiere Begovic ma non lo so ebbene Zlatan Ibrahimovic ha chiesto il motivo perché quindi quando si parla di un confronto acceso si intende un confronto tra due persone accese in effetti chi ha parlato in maniera piuttosto stigmatizzando la situazione è stato proprio Zlatan Ibrahimovic che conosciamo bene ha detto come mai come mai a due giorni della partita si viene a discutere di queste cose e allora Gazzidis ha risposto dicendo che solo venerdì mi avete dato la vostra proposta io l'ho portata a Londra ne abbiamo discusso portata a Londra nel senso mandata a Londra ne abbiamo discusso e quindi non potevo venire prima però Zlatan Ibrahimovic è andato amanti perché Ivan lei o tu non lo so come si come si parlino non vieni mai a Milanello perché quali sono i progetti della società che non mi sono chiari e queste sono state le parole direi piuttosto ferme piuttosto forti da parte di Zlatan Ibrahimovic Gazzidis sembra che sia rimasto totalmente calmo e abbia confermato e fa sempre lui i progetti della società anzi i progetti della proprietà ha detto che ha preso atto e ha detto avete ragione devo venire più spesso ma ne abbiamo parlato di un video ieri perché non entra nella testa di Gazzidis quella di andare spesso a Milanello è un amministratore delegato all'inglese non all'italiana e quindi deve calarsi nella parte italiana di essere più vicino alla squadra lui lascia al manager ma qui non è che funzioni proprio così comunque ha detto che prende atto riconosce di essere venuto di andare poco a Milanello e andrà ha promesso che andrà più spesso quindi è Zlatan Ibrahimovic che poi voleva chiedere anche ha chiesto forse così si dice anche dei contratti e Gazzidis ha ribadito che i giocatori con i contratti a termine come si dice buonaventura verranno ovviamente portati avanti mentre ovviamente del contratto di Ibrahimovic Gazzidis non ne ha parlato vi dico io qualcosa il giocatore probabilmente vorrebbe un ingaggio intorno ai quattro netti quindi non so se il Milan accetterà o meno ma come ho sempre detto io in ogni caso dipenderà e l'ha detto Gazzidis non riferendosi al contratto di Ibra ma in generale a come finirà questo campionato non si possono fare programmi senza sapere se Milan sarà in Europa rosa più allargata o non sarà in Europa rosa più ristretta ha detto che fino alla fine della stagione massima fiducia a Pioli e poi ci sarà poi verrà presa una decisione circa l'allenatore e anche lì in base all'allenatore ve l'ho sempre detto decisioni riguardo ai giocatori riguardo fra i giocatori anche Zlatan Ibrahimovic e allora Gazzidis molto calmo quindi quando si parla di confronto acceso no Ibra che ha chiesto delle cose e Gazzidis ha risposto mantenendo una certa calma dicendo parlando ovviamente dei progetti futuri della società ma dicendo anche che dipende tutto per i progetti prossimi non lontani prossimi da questo finale di campionato che Gazzidis vorrebbe vedere onorato massimamente dai giocatori perché ripeto l'Europa comporta una certa strategia di mercato e prossima non la non Europa ne comporta un'altra quindi questo è quello che è successo a Milanello quindi Ibrahimovic che si è esposto ha chiesto alla sua maniera con parole diciamo con parole decise con parole chiare quello che secondo lui non è andato e ha fatto delle domande Gazzidis ha risposto e quindi questo è stato il diciamo il confronto tra i due tra l'amministratore delegato e Zlatan Ibrahimovic questo è accaduto ieri a Milanello quindi Zlatan ama questa maglia vorrebbe vedere strategie precise e le ha chieste all'amministratore delegato ripeto stigmatizzando il fatto di avere queste risposte sui contratti solo due giorni prima della partita e Gazzidis gli ha risposto e soprattutto pretendendo che la società stia più vicina al gruppo e alla squadra quindi queste le richieste o meglio le le sensazioni le impressioni le comunicazioni di Zlatan Ibrahimovic a Ivan Gazzidis. Chiudiamo con la notizia abbiamo detto ieri del furto con la pistola puntata a Castiglieco del suo orologio ho letto ieri sera che costasse 80 mila euro ma non è un problema che mi riguardi ma sembra che siano stati presi i due colpevoli del furto all'orologio di Castiglieco. Chiudiamo con questa notizia se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi a chi è qui a chi è l'occhia di Carlo Pellera. .